Buongiorno a tutti, oggi siamo qui al museo ferroviario di Savigliano. Questo qui non è un video parlato, ma ho voluto comunque fare una breve introduzione perché è pieno di rotabili molto belli, come questi due che abbiamo qua davanti. Ovviamente ci sono le panoramiche degli interni, comprese le cabine, le panoramiche delle varie motrici. L'unica cosa, ancora mi mancano un po' di motrici, però posso assicurarvi che le 668 GTT che abbiamo qua c'è, 410 c'è e alcune delle locule diesel pure ci sono. Quindi, senza dire nient'altro, buona visione del video. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie. 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 bene 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 allora questa macchina qua viene da la macchina viene da la macchina è 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 Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti